Dovrei rispettare e prendere note di questa situazione. Rispetto alla situazione che si è creata ed ho preso la decisione di dimettermi. Con queste parole il premier belga Charles Michel ha annunciato al Parlamento le sue dimissioni, riferendo poi che il passo successivo sarà comunicare la decisione al re Filippo. La decisione è arrivata dopo un pomeriggio ad alta tensione alla Camera. Michel da due giorni guidava un governo in minoranza per via della scelta di firmare il patto sui migranti e le conseguenti dimissioni di alcuni ministri dell'opposizione e i violenti scontri di piazza a Bruxelles. Al Parlamento ha però chiesto una coalizione di buona volontà per affrontare alcuni problemi e traghettare il paese alle nuove elezioni. Ma socialisti e verdi hanno subito annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia congiunta. Da quelle dimissioni che fonti vicine al re Filippo riferiscono potrebbero anche essere congelate in attesa di ulteriori sviluppi.